Mentre anche le persone più ordinarie possono apprezzare la buona musica, solo pochi uomini privilegiati sono in grado di apprezzare il fascino del maligno. L'uomo che ha il coraggio di affrontare il suo dio con ferrea volontà e che riesce a sconfiggerlo, ebbene sarà l'abitante di questo paradiso con tutte le sue bellezze. Tengo nascosti come i preziosi di un furto brillanti segni di squilibrio, mi muovo solo, slegato dal tempo in un tempo senza forma nel ghiaccio rosa di una livida alba treo. Ogni passo ha un freddo suono sintetico, ogni respiro un occhio, ogni riflesso un pensiero eversivo. Si è arzata la nebbia, le voci sono mattate, la visuale azzerata, sono solo nel cuore della debra. I BGLFP sono pazzi, sguazzano nel lockdown, registrano versi con l'iPhone e abitano a Roma Est. E la cosa ci va quanto bene, visto che oggi come oggi anche il tizio del ferramenta c'è l'eureca ogni tanto, è la sua versione dei fatti, dal Big Bang ad oggi. Sbriciolo la morale in un battito di ciglia, l'ambiente è una desolazione di rituali insane. E' un incendio pastello che brucia l'umore, lancia il battito, disperde la ragione. Avanzo come avanzavano i primi coloni, di qualunque regione. I BGLFP sono pazzi, sguazzano nel lockdown, registrano versi con l'iPhone e abitano a Roma Est. E la cosa ci va quanto bene, visto che oggi come oggi anche il tizio del ferramenta c'è l'eureca ogni tanto e la sua versione dei fatti, dal Big Bang ad oggi. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.